Un cordiale saluto dal vostro Stato Non Grigio Però sono qui a presentare l'estate 2024 Ricordando due persone, due persone che io ho lavorato in una televisione che si chiamava Serenissima Televisione Che adesso è diventata Canale Italia, l'amico Torni Sessolo Ma io voglio ricordare un grande amico, l'amico Gedeone Che purtroppo è morto ed è scomparso e non sono scoperto tramite altri amici che è morto Lui con lui mi aveva dato tante soddisfazioni e mi aveva insegnato una vita E con lui dedico questa trasmissione televisiva con ricordo di Gedeone che era su E con un'amica, Raffaella Carà, che dedico questa trasmissione l'estate La televisione mondiale con l'estate di Stefano Grigio Oggi sono le anteprime, domani ci saranno le puntate con i vari video Perché io ho delle amici, di donne le ho avute tante Di donne le ho avute una di Padova, una di Roma, una di Bari E con lui mi ha insegnato un po' la vita Adesso sono qua un po' disperato Però vorrei ricordare la mia vita La mia vita che me la sono fatta qua Vedete, questa è la mia costruzione dove mi sono costruito tante cose Vedete, tante cose me le sono costruite Eccolo qua Eccolo qua, questo è il mio studio televisivo Ecco, fa caldo, però non sono nudo Sono così in estate 2024 Queste sono le prime puntate Poi costruirò i video Intanto a fianco a me c'è uno, Stefano Grigio Che lavorava con la telecamera Che riprendeva Tony Sessolo E Gedeone E con Gedeone lo voglio ricordare Insieme alla mitica Raffaella Carà Che è quella lì Con Cici Proietti Ettore E Gianfranco Tre amici che purtroppo Se ne sono anche andati nel paradiso Nel mondo del paradiso L'amico Gigi Proietti Un grande amico Con Carlotta Proietti L'amico Ettore Bianca Guacero E l'amico Gianfranco Spagli Viero che è un amico Che vorrei ringraziarlo E prossimamente Manderò dei video, clip Mi sto aggiornando con le varie puntate Di estate 2024 Stiamo partendo con le puntate Di estate 2024 In agosto faremo tutti i giorni Un pezzettino su Youtube E Facebook Di questa trasmissione televisiva